Cominciamo subito il 22 di aprile con la giornata mondiale della terra, sarà una giornata dedicata attraverso conferenze ed escursioni alla scoperta di quelli che sono i segreti del lago di Cornino, sia dentro che fuori, nel senso che parleremo anche delle piante che lo popolano e quindi sarà proprio un'iniziativa interamente dedicata alla scoperta della terra. Proseguiamo poi con una serata dedicata agli uccelli migratori, un viaggio diciamo alla scoperta di quelli che sono i segreti che si cerano dietro alle migrazioni, segreti che non necessariamente ancora l'uomo conosce ma insomma cercheremo di capirli al meglio. Proseguiamo poi con quelli che sono gli eventi interamente dedicati ai bambini, quindi abbiamo il Griffon Day il 3 di giugno, evento che raggiunge quest'anno la terza edizione, un evento interamente dedicato ai bambini che prevede attività di laboratorio ed escursione alla scoperta di quelli che sono i parchi e le riserve regionali ma anche le altre attrattive naturalistiche presenti nel territorio regionale. Saranno previste anche attività di laboratorio e mirate diciamo quello che è l'osservazione anche meteorologica e delle trance. Cosa si può trovare all'interno della riserva naturale di Cornino? Facciamo una bella pubblicità, promozione alle famiglie che vogliono andare a visitare? La riserva naturale del lago di Cornino sicuramente è la meta ideale per la famiglia in quanto sono previste ed sono facilmente accessibili tutti quelli che sono i percorsi esterni, quindi attraverso una breve passeggiata si possono mirare quelle che sono le caratteristiche più salienti del territorio. Parliamo quindi del fiume Tagliamento che è un po' la perla di di questa regione così come il lago di Cornino che invece rappresenta un po' la punta del diamante proprio della riserva. Il progetto Grifone sicuramente ha un ruolo rilevante durante la visita perché si ha la possibilità di osservare e ammirare questi straordinari avvoltoi di quasi tre metri di apertura all'area. Quanti esemplari? Circa 150 alla colonia stanziale. Progetto di conservazione ne parliamo con Fulvio Genero. Sì, è un progetto importante che portiamo avanti quasi da 30 anni da quando è iniziato che prevede moltissime attività. Diciamo che il Grifone ha una grande importanza a livello turistica ma anche scientifica e naturalistica sia perché è una specie di pregio, attualmente gli avvoltei hanno grossi problemi a livello mondiale per cui vengono studiati sempre di più e si cerca, ecco nei paesi che hanno più possibilità come la Spagna, la Francia e anche l'Italia, di capire quelle che sono le loro esigenze ecologiche e biologiche per poter riservare meglio. Sono molto importanti anche che si spostano molto e spostandosi ci collegano proprio fisicamente a delle realtà territoriali di grande interesse sia, ripeto, dal punto di vista turistico ma anche conservazionistico, in particolare il parco del Tricorno in Slovenia, il parco degli Alti Tauri e alcune aree protette della Croazia, per esempio, dato per citare le più vicine, ecco noi assieme a questi enti territoriali di grande importanza sviluppiamo dei progetti, azioni di studio ma anche azioni di presenza sul territorio, soprattutto di suggerimenti diciamo che possano anche attenuare i pericoli, le problematiche territoriali che possono svantaggiare questi animali. Il progetto è già partito da alcuni anni, prevede lo studio degli spostamenti con la telemetria satellitare, spostamenti che però ci danno varie altre indicazioni su quelli che sono i posatoi, le aree frequentate, le sorgenti trofiche che utilizzano eccetera. Quest'anno è prevista appunto la cattura di altri individui e l'applicazione di altre pericature satellitari in collaborazione sempre con i parchi citati, con l'Università di Udine e altre strutture per suo studio e la ricerca.